C'era anche Marco tra i più di 50 bambini e ragazzi ricoverati nella pediatria del cafoncello a ricevere le uova di Pasqua donate dai vigili del fuoco di Treviso che tra le corsie hanno portato anche sorrisi e tanta allegria. Il comando di Treviso nelle feste importanti che sono Natale e Pasqua ci tiene ad essere qui in pediatria con i bambini. È una tradizione della pediatria, portano le uova, portano la loro solidarietà ma portano anche l'allegria e portano anche un segno di pace. Non solo uova tra le corsie della pediatria ma anche una donazione importante. I vigili del fuoco con l'occasione hanno consegnato un assegno di 1300 euro, denaro raccolto durante l'esposizione del presepe nel periodo natalizio e destinato all'associazione Per Mio Figlio che si impegna dal 1997 a migliorare la qualità della vita dei bambini ospedalizzati. Per noi è importantissima questa collaborazione con l'associazione Per Mio Figlio perché all'interno del reparto di pediatria l'associazione ha creato un ambiente ospedaliero a misura di bambini e questo per noi vigili del fuoco è molto gratificante. Il loro contributo insieme al contributo di tanti altri donatori permette di fare dei progetti per l'umanizzazione delle cure in pediatria quindi alle uova si associa anche un gesto di generosità molto importante. È un gesto di solidarietà straordinario che il corpo di vigili del fuoco ci è vicino, ci è sempre stato vicino, sono veramente una risorsa del nostro territorio e li ringraziamo di cuore per quello che fanno nel loro lavoro e per il gesto di solidarietà che hanno dato a questa nostra unità operativa di pediatria.